X Factor, fucina di talenti e nuove proposte, stavolta sembra davvero aver fatto centro. Voglio dimostrare a me stesso di poter capire la mia strada per crearmi qualcosa di mio. Così ha esordito Leo Gasman, giovedì sera, alla terza puntata delle audizioni di X Factor 12.X Factor, ecco che è Leo Gasman Leo Gasman, 19 anni e un cognome importantissimo sulle spalle. Figlio di Alessandro e nipote di Vittorio. Felice della famiglia felice che hai consapevole di essere un ragazzo fortunato, sente di avere dentro un eco che deve uscire, per sfogarmi, per alleggerirmi. Con il suo inedito freedom solo voce e chitarra, ha fatto scaldare subito il pubblico di X Factor che gli ha regalato applausi a scena aperta. La canzone è dedicata a tutte quelle persone che cercano la libertà e lottano per Avella, dice introducendo il brano.Il verdetto dei giudici dopo l'esibizione di Leo Gasman. I giudici di X Factor non hanno avuto dubbi. Asia Argento si è detta molto emozionata. Fedez si è complimentato anche per il coraggio. . Mara Maionti ha affermato che con Leo si può lavorare bene con qualche bacchettata sulle mani. Manuel Agnelli ha trovato il testo un po' ingenuo, ma è convinto del timbro del ragazzo. Leo Gasman ha ricevuto 4 sì e siamo sicuri che nelle prossime esibizioni ci regalerà ancora per la magia che è scesa mentre i suoi occhi e la sua voce raccontavano il suo mondo. .